I frammenti di legno appartenenti alla porta della caserma dei Carabinieri sono sovrapponibili con i frammenti dello stesso materiale ritrovati nei nastri che bloccavano il capo di Serena. Le evidenze genetiche forniscono un forte elemento di supporto all'ipotesi di perfetta riconducibilità delle tracce di origine vegetale rinvenute sui nastri e sui campioni prelevati dalla porta sequestrata. Elena Pilli, esperta in botanica forense e consulente della procura di Cassino, ha confermato alla Corte d'Appello di Roma quanto già presentato ai giudici di primo grado il 4 febbraio 2022. L'esperta ha ribadito che la porta del bagno dell'alloggio della caserma di Arce e i frammenti di legno trovati sul corpo di Serena Mollicone sono compatibili al 90%. Serena Mollicone, studentessa di 18 anni originaria di Arce, Frosinone, scomparve il primo giugno del 2001 e fu ritrovata senza vita due giorni dopo nel bosco di Fontecupa, a 8 chilometri dal suo paese natale. Sono trascorsi quasi 23 anni da quel delitto, che rimane ancora irrisolto. La procura di Cassino, nel processo di primo grado, aveva richiesto una condanna di 30 anni per l'allora maresciallo dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, 24 anni per il figlio Marco e 21 per la moglie Anna Maria. Questi tre erano accusati di essere coinvolti nell'omicidio della studentessa. Il processo coinvolgeva anche il sotto ufficiale Vincenzo Quadrale e il carabiniere Francesco Soprano, il primo imputato per concorso in omicidio e istigazione al suicidio del collega Santino Tuzzi, il secondo per favoreggiamento. Il 15 luglio scorso, però, la corte d'assise di Cassino ha assolto tutti e cinque gli imputati. La procura e le parti civili hanno presentato ricorso in appello e ora il processo di secondo grado è nelle fasi conclusive. L'analisi dei 19 micro frammenti di legno rimbenuti sotto il nastro adesivo che fu utilizzato per immobilizzare la testa di Serena Mollicone è un elemento cruciale per l'accusa in questo secondo processo d'appello. Questi frammenti sono stati confrontati con campioni di trucciolato provenienti dalla porta della caserma di Arce, trovata danneggiata. Secondo l'accusa, Serena Mollicone sarebbe stata sbattuta contro la porta, che dunque sarebbe stata l'arma del delitto. Secondo la biologa Elena Pilli, dei 19 frammenti trovati, 6 sono compatibili con il legno della porta. Altri 6 sono parzialmente compatibili e altrettanti non lo sono affatto. La diciannovesima traccia, scoperta tra i capelli di Serena, risulta compatibile per lo 0,88% con il legno della porta del bagno dell'alloggio. Questo indica un'alta probabilità di collegamento tra la porta e i frammenti, ma non può garantire con certezza che tutti quei pezzi appartengano esclusivamente a quella porta danneggiata. Questo dettaglio ha portato inizialmente all'assoluzione di tutti gli imputati nel processo di primo grado, provocando il crollo dell'impianto accusatorio. La difesa dei Mottola si basa ancora su questo punto. L'avvocato Mauro Marsella ha evidenziato le conclusioni della biologa sostenendo che non supportino appieno le tesi della procura. La difesa dei Mottola ha contestato la conclusione della dottoressa Cristina Cattaneo, la quale ha considerato compatibile il segno di rottura trovato sulla porta con la frattura cranica subita da Serena. La prossima udienza d'appello è prevista per il 24 gennaio, quando verranno ascoltati i consulenti delle parti civili, inclusi il generale Luciano Garofalo, la criminologa Roberta Bruzzone e il medico legale Luisa Regimenti. Il 30 gennaio, invece, sarà il turno dei consulenti della difesa dei Mottola. Successivamente, la corte d'appello deciderà se prendere in considerazione alcuni testimoni citati dall'accusa, come il carrozziere Carmine Belli, precedentemente ingiustamente accusato del delitto durante la fase iniziale delle indagini. L'uomo afferma di aver visto Serena con un ragazzo biondo poco prima della sua scomparsa. L'accusa attualmente ritiene che quel giovane fosse Marco Mottola, che in quel periodo aveva dei colpi di sole nei capelli. La testimonianza cruciale nel corso dell'indagine è stata quella del brigadiere Santino Tuzzi, deceduto suicida nel 1998. Prima del suo tragico gesto, aveva dichiarato di aver visto Serena entrare nella caserma di Arce la mattina della sua scomparsa, senza mai più uscirne. Ma in primo grado, la sua testimonianza è stata considerata poco affidabile, determinando il crollo dell'impianto accusatorio contro i Mottola. Tuttavia, in appello, il potenziale impatto di questa testimonianza potrebbe essere rivisto, il che potrebbe implicare una rivalutazione delle accuse verso chi avrebbe istigato Tuzzi al silenzio sulle informazioni legate alla tragica morte della studentessa. Ci si avvicina dunque alla conclusione di questo processo. La famiglia di Serena, dopo quasi 23 anni, resta in attesa di verità e giustizia.